Ragazzi del canale, cosa dire? Sono molto contento di avere lui accanto, la voce del giornalismo in Sicilia e non solo, presento lui, il giornalista ma anche un papà simpaticone, accanto a me, con vero piacere, Giovanni Villino. Ciao Giovanni. Ciao, io pensavo che fossero altri, ma lui è mister Pisolo, non so se mi spiego. Grande mister Pisolo, bravo, simpatico, ma soprattutto fa divertire sia grandi che piccini. E bravissimo mister Pisolo, seguite anche il suo canale YouTube perché fa veramente tanto, non ho ricevuto un solo euro per questa sponsorizzazione perché se la merita per ciò che è e ciò che fa. Bene, grazie a Giovanni Villino. Ciao. Ciao Giovanni, grazie. Ciao ragazzi.